Ciao, sono Valerio Novara. Per capire chi sia Steven Spielberg dobbiamo tornare per un attimo a una notte del novembre del 1981 quando tutta la troupe e il cast di E.T. sono in attesa, in piena notte, di vedere la luna piena e il regista sta cercando una specifica inquadratura dopo giorni di attese sul set e al freddo per girare una scena che è diventata iconica nell'immaginario collettivo e nella storia del cinema che è quella con la bicicletta, con il protagonista del film di E.T. e l'alieno in bicicletta che passano e la luna piena sullo sfondo. Beh, dovete sapere che quella scena non è stata girata con alcun effetto speciale ma il regista l'ha voluta girare con la macchina da presa, aspettando proprio giorni e giorni che ci fosse l'inquadratura giusta, la luna giusta e, insomma, è diventata una delle scene più belle del cinema mondiale che ci ha fatto innamorare di questo film e di un regista di cui oggi vi voglio parlare raccontandomi un po' di curiosità e non, diciamo, le solite cose che poi sappiamo tutti, i film più belli che, insomma, conosciamo su questo regista che ha fatto veramente la storia di quest'arte. Diciamo che il suo modo di fare film è tutto incentrato sulla sua infanzia e sul film e sul cinema come salvezza per un ragazzo che è stato molto bullizzato e preso di mira dagli altri ragazzini quando era piccolo. Steven Spielberg è stato da sempre appassionato al film, al cinema e al girare dei piccoli cortometraggi. Pensate che fin da bambino lui era molto introverso, molto timido ma trovò, insomma, nel cinema la sua voglia di evadere e cominciò a girare dei piccoli cortometraggi anche di una decina di minuti nel giardino fuori casa o dentro casa, anche come lui, lui come protagonista finché il padre, da adolescente, grazie anche a una camera da 8 mm, gli affitta un'intera sala di un cinema per fargli proiettare il suo primo lungometraggio, che era una storia di alieni, di UFO e lo script fu scritto dalla sorella Nancy. E quella, diciamo, fu la prima volta in cui il piccolo Steven Spielberg vide sul grande schermo proiettata una delle sue opere. A scuola le cose non andavano bene, come dicevamo fu un ragazzo che veniva preso di mira e non riusciva a difendersi dai bulli della scuola, cambiò spesso sia città che indirizzo scolastico, finché da adolescente, insomma, non decide di intraprendere la vita universitaria in California. Un po' a sorpresa però non venne ammesso inizialmente per ben due volte all'esame di ammissione all'Università della California e poi scelsi, insomma, di virare su un'altra università alla quale studiò letteratura inglese. Diciamo che in quel periodo cominciò anche a frequentare, perché la sua passione per il cinema comunque non era venuta meno, cominciò a frequentare gli Universal Studios e lì fece, insomma, da turista, tra virgolette, ma da appassionato e cominciò ad affiancare vari personaggi che lavoravano all'interno degli Studios. Eblematica la scena in cui lui ogni giorno comunque entra dai cancelli degli Universal Studios e la guardia, diciamo, che sta all'ingresso, dopo un po' di tempo pensa che sia un dipendente e comunque lo fa entrare senza chiedergli ulteriori spiegazioni, finché venne realmente assunto negli Studios perché si vinse dipendente e riuscì, insomma, ad entrare in quello che è il fulcro della vita cinematografica degli Stati Uniti e in particolare della California, dove, come sappiamo, i sogni spesso possono diventare realtà. Il successo per Spielberg arriva grazie allo Squalo, un film che immagino conosciate tutti, che nel 1975 fece Scalpore, vinse tre Oscar e fece un incasso da quasi 500 milioni di dollari. Fu un film straordinario per la prima volta, veniva proiettata comunque una situazione drammatica e paurosa in cui uno Squalo, quindi un animale, un predatore, poteva essere pericoloso e poteva far del male agli esseri umani. In una recente intervista Spielberg, nonostante debba tantissimo a questa pellicola, ha raccontato che comunque dopo l'uscita dello Squalo al cinema e dopo tutto il filone sugli squali, che insomma è stato fatto, non solo i sequel del film, ma anche gli altri film che vediamo a tutt'oggi, che rappresentano insomma questo animale come un mostro, come la cosa più pericolosa che si può trovare in fondo al mare, purtroppo questa cosa fece aumentare la caccia agli squali e Spielberg si è detto dispiaciuto per aver inasprito la paura delle persone nei confronti di questo animale e quindi si è detto un po' dispiaciuto per aver girato il film. Non c'è dubbio che senza quel film probabilmente non avrebbe avuto lo slancio, l'inizio per entrare a pieno titolo nell'Olimpo dei più grandi registi di Hollywood. Dopo lo Squalo, nel 75, Spielberg torna sulla sua passione per gli UFO, una passione che lo ha sempre contraddistinto, pensate che anche l'idea di alieni e di esseri che provengono dallo spazio risale ad un determinato periodo della sua vita, quando i genitori divorziano, una cosa che lo comunque influenzerà parecchio anche nel corso della sua vita e l'idea di avere un amico immaginario proveniente da non terreno con il quale poter parlare delle sue insicurezze e dei suoi problemi. Fu il periodo di incontri ravvicinati del terzo tipo, che viene fu il successo di Spielberg dopo lo Squalo. Un film che devo dire, io racconto sempre una cosa, poi durante le nostre live su Ciaccazione mi piace sempre raccontarlo, l'ho rivisto di recente e devo dire che è un film fatto benissimo, incontri ravvicinati mostra per esempio gli alieni con quella fisionomia che poi abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni e devo dire sono fatti in un modo veramente fantastico, se pensiamo che comunque non erano ancora arrivati gli anni 80 e insomma gli effetti, il trucco e i costumi erano quelli che erano, ma vediamo già in quel momento che fu un'apripista per il genere sugli UFO e per i film sul genere fantascientifico che arriveranno da lì negli anni successivi insomma. A quel punto Spielberg ha in mente di fare un film horror sul filone di incontri ravvicinati. Il film si sarebbe dovuto intitolare The Night Skies ma non venne mai prodotto e il materiale venne diviso in due, in due filoni contraddistinti che diedero vita a Poltergeist e soprattutto a E.T. Partiamo da qui, partiamo da E.T, da questo script che venne buttato giù sul set di Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta, racconta Spielberg che stava girando ancora Indiana Jones ma quest'idea di un bambino e dell'amicizia, del profondo rapporto con un alieno venuto dallo spazio lo presero a tal punto che volle subito buttare giù lo script e proporlo insomma ai produttori dell'epoca. La sceneggiatrice Mattison racconta che per rappresentare E.T. l'alieno non fu facile perché l'idea era di rappresentarlo brutto ma non spaventoso, non doveva essere un film horror ma doveva assomigliare, come racconta anche lo stesso Spielberg, a una tartaruga senza guscio. Quindi vennero proposti diverse acconciature, diversi robot, insomma diverse maschere e alla fine si scelse quel E.T. a cui tutti siamo legati che però non assomiglia allo stesso tempo agli alieni che abbiamo già detto e abbiamo visto in incontri ravvicinati. Ma lo spettatore doveva simpatizzare e non simpatizzare con l'alieno e non pensare che fosse un semplice nano con il costume. Una delle cose più divertenti che mi piace raccontare su E.T. che è uno dei film con i quali sono cresciuto è che per scegliere la voce di E.T. venne selezionata un'anziana donna che fumava due pacchetti di sigarette al giorno. Con la sua voce roca riuscì a dare retti quelle sembianze extraterrestri se vogliamo che poi insomma abbiamo imparato ad amare e a conoscere nel corso del film. Non solo, per mixare al massimo gli effetti sonori dell'extraterrestre oltre alla voce della donna ci sono alcuni passaggi in cui ci ha messo anche la voce lo stesso Spielberg nonché ha mixato effetti sonori come il rutto di un suo vecchio professore di cinema e anche i versi di animali come Cavalli, Lontre e Procioni. Insomma tutto questo mix di suono poi ha dato vita alla voce di E.T. che tutti noi abbiamo imparato ad amare. Tra l'altro i protagonisti, i tre ragazzini e insomma in particolare la piccola che è una giovanissima Drew Barrymore nel caso non ve ne foste accorti, Spielberg vi staurò con lei un rapporto molto padre figlia e ha raccontato lo stesso Spielberg che i ragazzi recitavano quasi a braccio, cioè la loro era quasi una reazione agli eventi che si verificavano sul set. Una delle cose più importanti viene fatta questa cosa, cioè di non farli recitare sapendo benissimo quello che doveva accadere ma reagendo insomma a quello che succedeva all'alieno e insomma agli uomini che volevano catturarlo e i bambini non hanno mai visto l'uomo nascosto dentro la tuta da E.T. proprio per fraternizzare al massimo con l'alieno e quindi con questo amico, questo nuovo amico, questo nuovo compagno che trovano insomma e che ha dato e che ha fatto la fortuna di questo film. Arriviamo poi agli anni 90 in cui ci fu Schindler List che è uno dei film più iconici della storia del cinema. Spielberg decise di dirigere un film sull'olocausto in bianco e nero con pochissime scene, anzi pochissimi dettagli a colori e non prese neanche un centesimo da questa pellicola proprio perché insomma a parte che ci furono moltissime critiche sul fatto che si guadagnasse su un fatto storico drammaticissimo ma lui decise insomma di non prendere neanche un euro perché voleva semplicemente raccontare dal suo punto di vista una parte importante della storia della seconda guerra mondiale, una parte così drammatica che comunque gli valse i suoi primi due Oscar perché Schindler List nel 94 vinse l'Oscar come miglior film e lui vinse il suo primo Oscar come miglior regista. In tutto Spielberg ha vinto due Oscar come miglior regista, il primo come dicevamo per Schindler List e poi nel 99 per Salvati il soldato Ryan, tra l'altro anche quello un film che riguarda uno dei fatti più importanti, uno spartiacque della seconda guerra mondiale. Negli anni 90 ci furono Indiana Jones, Luke, Capitano Uncino, film su Peter Pan con Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts. Spielberg ha raccontato non lavorerò mai più con Julia Roberts perché gli attori tra di loro insomma non si trovarono bene sul set questa cosa è interessante perché comunque non si evince dal film ma non fu una bella esperienza per Spielberg e fino ad arrivare a Jurassic Park che insomma tolse il record di film con maggiori incassi della storia a E.T. Jurassic Park fu una novità anche da quel punto di vista perché un film che parla di un'isola in cui ci sono dei dinosauri che vengono fatti tornare in vita con il DNA fu comunque un'idea molto originale e lui prese spunto da questo libro di Michael Crichton su Jurassic Park un film di grandissimo successo che ho apprezzato tantissimo che rivedo sempre molto volentieri e insomma anche qui il primo è il primo poi i sequel insomma lasciano il tempo che trovano fino ad arrivare insomma all'anno scorso con West Side Story la storia di insomma di una New York negli anni 50 con queste fazioni che queste gang che si contendevano i quartieri i territori fu più musical se vogliamo e quest'anno che probabilmente è l'ennesima consacrazione di uno dei registi più amati della storia con The Fabelmans che oltre ad aver vinto il Golden Globe come miglior film drammatico e lo stesso Spielberg come miglior regista si prospetta anche in ottica Oscar come un film che potrà dire la sua diciamo Spielberg ha appassionato un'intera generazione forse più di una personalmente lo trovo uno dei migliori registi della storia e è un regista che mi sta anche particolarmente simpatico perché poi se avete notato queste cose che vi ho raccontato mi era venuto in mente un'altra cosa ancora nella serie Dawson Creek insomma nel telefilm Dawson Creek degli anni 90 si racconta proprio di questo ragazzo Dawson che vuole ripercorrere le orme di Spielberg appassionato di cinema insomma fin da piccolo prova a registrare dei cortometraggi con i suoi amici nel giardino di casa un ragazzo introverso, un ragazzo divino, un ragazzo d'altri tempi e ci ho trovato molto di Spielberg quindi è evidente che anche lui poi entrerà nella scuola di cinema come aiuto regista poi riuscirà insomma alla fine della serie a incontrare il suo idolo Dawson al telefono con pesi e gioi insomma racconta loro di essere riuscito ad avere questo appuntamento questo incontro con il suo regista preferito e insomma Spielberg ci ha fatto sognare, ci ha fatto mettere paura con alcuni film ci ha messo i brividi, ci ha fatto ricordare eventi della storia che è doveroso ricordare anche per il sacrificio di tante persone che ne hanno fatto parte credo che in ottica Oscar possa essere uno dei migliori registi per l'ennesima volta dell'anno ma insomma questo non lo dico io, lo dicono i suoi film e lo dicono i fatti io vi ringrazio per avermi ascoltato e avermi accompagnato in questa storia di Spielberg e vi consiglio di iscrivervi al canale YouTube, di mettere mi piace su Facebook, di seguirci su Instagram e vi do appuntamento al prossimo video Grazie a tutti